che uno può avere e che Putin, siccome opera sulla Le Pen, ci sono finanziarie, ci sono inchieste anche in Francia su certi sostegni, ecco, quello che temo è che può darsi che Putin, che siccome non è un santo e non regala denari o cose altre, faccia tutto questo per indebolire l'Europa. Questo è il rischio, il rischio. Ma scusate perché Trump cosa vuole fare se non indebolire l'Europa? Non è in contraddizione essere amico di Trump o di Putin, entrambi su questo vogliono la stessa cosa, indebolire e sfaldare l'Europa. E' un nuovo, deve rispondere. Eh, sì, sì, rispondiamo. No, però Claudio Gatti, siccome tu...